Amici del Soft Libre Open Source, benvenuti e bentornati in questa nuova puntata delle non recensioni. È una nuova rubrica che ho lanciato sulle pagine di Marcos Box, volta a recensire una serie di prodotti che io acquisto regolarmente dalla Cina, prodotti a basso costo ma anche che sono davvero interessanti per alcune delle loro caratteristiche. Altri prodotti ovviamente li compro anche su siti come Amazon, Ebay e quant'altro, però sono sempre di origine cinese. Bene, questa puntata è dedicata a una tastiera, una tastiera che io ho acquistato su Temu. Conoscete il nuovo store cinese che ultimamente lo vedete pubblicizzato da parecchi siti. È un'alternativa ad Agile Express, alla fine in definitiva i prodotti sono sempre quelli. Io ho sfruttato i codici promozionali iniziali per poter acquistare questa tastiera al prezzo di ben 3,50€. Questa tastiera viene venduta normalmente attorno alle 35€ sul sito di Temu, però la trovate anche su altri store, la trovate anche su Amazon, però su Amazon l'ho vista recente appena soltanto in colorazione rosa. Questa tastiera è una tastiera della MagieG, spero di averla pronunciato bene, la Star 61 è, come potete leggere qui, è una tastiera meccanica. Qui non so che cavolo sta scritto, ma immagino che sarà lo stesso nome, 61 ripetuto. È una tastiera compatta, 61 tasti, la mia prima tastiera 61. E poi ve ne parlerò un po' più avanti dei problemi relativi a questo formato di tastiera, che però non sono insomodabili alla fine. Un po' di training e ci si abitua. Qui troviamo assolutamente informazioni indecifrabili, però potete leggere qui. Potete riconoscere la scritta Type-C, perché questa tastiera è dotata di cavo di tipo Type-C, che serve per poter alimentare e collegare al computer. In verità, il cavo fornito in dettaglio è un po' corto, però vabbè, poi ne parleremo più avanti dei punti critici di questa tastiera. Comunque, è un'ottima cosa che avete il cavo staccabile, non come altre tastiere, come la Drevo che ho ricensito nella scorsa puntata, che è il cavo incluso, integrato all'interno della tastiera. Se si rompe, poi la dovete buttare. Invece qua, cambiate il cavetto e andate avanti. Qui troviamo le informazioni sulla compatibilità. Ovviamente, addirittura si parla di Windows ME, Windows Millennium Edition. Ve lo ricordate voi? È una delle peggio versioni di Windows. Io ho provato tutte quante, perché ero un collezionista anche di versioni di Windows, sorta che di distribuzioni Linux. Prima di passare alla testiera, vediamo che cosa c'è nella confezione, perché è una confezione molto ricca. Ovviamente, a volta la tastiera e al cavo USB di tipo C, di cui vi ho parlato prima, troviamo un estrattore, con una forma un po' particolare, perché non è il classico estrattore, quello di plastica che troviamo su altre tastiere. Troviamo poi un manualetto di istruzione rigorosamente in lingua cinese, però vi spiega quali sono le combinazioni che potete utilizzare per le varie funzioni, con i tasti di funzioni, ma anche per personalizzare il tipo di illuminazione. Io la tengo sempre quella classica, quella sempre attiva, perché è più figa. E qui troviamo una graditissima sorpresa dei kick-up di ricambio. Perché? Perché possiamo cambiare. Alcuni kick-up non sono tutti, potete vedere quali sono. Abbiamo la barra spazzatrice, vedete qui il dettaglio della parte retro di questi kick-up, il tasto INS, i tasti WAS, da sostituire con i tasti WAS, i tasti FLECCH, e... Vabbè, trovate un set di kick-up che potete personalizzare per personalizzare ulteriormente la tastiera. Ma passiamo alla tastiera, chiudiamo tutto, rimettiamo tutto, anzitiamo tutta la rinfusa, non so che molti di voi odiano le cose fatte così, sono ciamattone, sono così. Questa è la tastiera, questa è la Star 61 della MagiG. Allora, come vi dicevo, il cavo di alimentazione, vi faccio vedere, prima staccata, così potete ammirare la tastiera in tutte le sue parti. Ovviamente è plastica, plasticaccia. I switch che ho scelto io in questo caso sono degli switch rossi e rappresenta anche la configurazione con gli switch blu, ma io ho preferito prendere i rossi perché mi ci trovo meglio in alcuni ambiti. Questa è la colorazione nera e grigia. Ci sono altre combinazioni che vanno a variare rispettivamente a queste parti, quindi io ho preferito anche in questo caso prendere una colorazione quella standard, soprattutto dei tasti i tasti quelli principali perché sono più leggibili, in colorazione nera con la retroilluminazione si leggono meglio, quindi ho visto che con la precedente tastiera con la drivo spesso e volentieri non si riescono a leggere bene in alcune condizioni, quindi ho preferito prendere questo tipo. pulita sul lato inferiore logo ma GG qui niente, questo è il profilo della tastiera non ci sono ovviamente rialzi cioè non c'è il piedino che si può rialzare ma il tutto risulta comodo dal fatto dell'inclinazione naturale della tastiera non mi ricordo mai come si chiama questo tipo di layout meglio di profilo ma comunque è molto comodo qui reggiamo alcune informazioni sulla tastiera non si riesce a mettere a fuoco ma non credo e qui l'ingresso type C per poter collegare come vi dicevo all'inizio il cavetto è abbastanza corto che cosa significa che il cavetto è abbastanza corto? beh semplicemente significa che se avete una postazione come la mia dove avete il computer messo in basso da quella parte faccio i gesti così mi capite vi trovate molto scomodi perché il cavo è corto o meglio cioè riuscire a avere un minimo di gioco però non so voi io spesso sposto la tastiera in posizioni imprevedibili e quindi mi fa comodo tenere un po' più lungo e ho riciclato per poter fare per poter utilizzare meglio ho riciclato l'extension come si chiama quella lì quella che era uscita sull'adrivo uscita in confezione con l'adrivo quindi ho riciclato quella per poter per poter correre ma comunque potete acquistare un cavetto qualsiasi usb c usb a e utilizzarlo per sostituire qualche giorno fa ho messo anche sul canale dei cavetti della inui che io utilizzo attualmente per caricare lo smartphone sono molto lunghi sono intrecciati a differenza di questo che è liscio e adesso ne devo prendere in colorazione proprio per matcharli con con questa tastiera e sostituire questo cavetto che è corto la tastiera come suona la tastiera che è quello che volete sentire voi ve la poggio il suono è il classico suono degli switch rossi non so onestamente quale versione di switch monta ma di sicuro dei switch molto molto economici non penso che abbiano messo chissà che tipo di switch su questa tastiera il suono comunque mi piace sarà per il fatto che è più compatta la tastiera sarà che il fatto che questo tipo di montaggio dei keycaps non sono sospesi come quelli della Drevo o della Ajax consentono di avere un suono più cubo più bello perché a me questo suono piace particolarmente e oltretutto vi devo dire anche un'altra cosa questo tipo di sempre riferito al tipo di montaggio dei keycap vedete non sono realizzati non sono sospesi come nell'altro tipo di tastiera e che cosa accade che accade che con la retroilluminazione diffusa perché è un pannello incassato qui che offre tutta la retroilluminazione e con il fatto che non sporge la luce non sporge non viene proiettata all'esterno ecco utilizziamo il termine corretto che cosa accade che questa tastiera risolve il problema che avevo incontrato sulla Drevo ovvero che mi si faceva con la Drevo e anche con con l'Ajats quando avete la retroilluminazione sparata e vi trovate a lavorare di sera al buio la retroilluminazione a questa parte viene proiettata sul monitor perché nel mio caso la tengo molto vicino e che succede? succede che vi esce sempre l'effetto come chiamalo l'effetto toretto come è stato ribattezzato da un mio amico su Google Plus tanto tempo fa e saluto Enrico e che succede? succede che vi fa questa proiezione sul monitor ed è fastidioso questo tipo di di montaggio dei kick up cioè della tastiera questo tipo di questo tipo di proprio di tastiera che non ha i tasti sospesi non fa non fa questo effetto toretto e quindi è più piacevole nell'utilizzo in serale anzi l'unica cosa negativa di questa tastiera è che si sente un leggero rumorino tipo un simbolo qualche cosa di alimentazione che fa che fa un suono leggero 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 io lo sento soprattutto quando mi trovo con tutto chiuso meglio in questi giorni gli ultimi giorni non lo sto notando particolarmente perché con il caldo con le finestre aperte ventilatore e quant'altro non ci faccio non ci faccio caso però se state al silenzio sentite questo questo sibico non so se è un difetto di produzione di tutte quante queste tastiere ma è soltanto un difetto della mia non lo rimandate indietro perché per 3 euro e che rimande indietro cioè pare brutto anche aprire aprire una contestazione e appunto poi non so nemmeno se il difetto si presenta anche su altre su altre tastiere un'altra cosa che vi ci tengo a dire se acquistate questo tipo di tastiera all'inizio dovete fare molto training per potervi abituare perché come potete vedere molti dei tasti che normalmente utilizzate sono tutti in seconda funzione quindi dovete prendere il tasto FN e vi trovate ad esempio i tasti freccia in seconda funzione il DEL l'AND quello per le pagine pagine up pagine su e pagine giù il print screen e quant'altro e un'altra cosa che vi trovate in seconda funzione e vediamo se riusciamo a mettere a fuoco è l'accento con questo tipo di tastiere per poter fare l'accento sulla E sulla A e su tutte quante le vocali che vi interessano dovete fare una combinazione di tasti un po' particolare però e questa è tipica di questo tipo di tastiere compatte cioè dovete prevere FN hash e poi la lettera accentata in questo modo vi ritroverete l'accento corretto l'accento spostato con l'apice verso sinistra l'accento verso destra invece la solita combinazione di tasti che potete utilizzare con il layout internazionale cioè lettera accentata e spazio e vi fa l'accento e questo ci tenevo a dire perché io all'inizio mi sono scelverato e ho detto oddio come cavolo faccio a fare l'accento con questa tastiera poi cercando su internet ho trovato su Morden Tech un articolo che spiega questa cosa e che appunto conferma che è una cosa di tutte queste tastiere mi sembra che c'è soltanto un modello di tastiere una marca di tastiere che non c'ha su Gash l'accento in questa maniera e quindi che è più immediato diciamo così adesso vi faccio vedere anche le combinazioni di luci Alexa spegni luce anche se non cambierò purtroppo non ho trovato nessun gruppo dispositivo chiamato cucina allora vedete che della volta che sembra che io sono il deficiente cioè io ho detto luce e quello ha capito cucina vabbè comunque spegnendo quella luce non è che risolvo che vi faccio vedere lo stesso comunque la retroilluminazione qui si sono i tasti per aumentare e abbassare e poi andiamoci a cambiare gli effetti questo è l'effetto pulsazione chiamiamolo così questo è l'effetto che va a illuminare soltanto la lettera nell'intorno quando andiamo a premere la lettera il solito effettino a onda che piace tanto a molti di voi l'onda veloce ai singoli tasti questo ha un suo perché questo è uno degli effetti di luci che spesso utilizzo con le tastiere con le tastiere retroilluminate di questo tipo questo è un altro tipo di effetto in pronotico questo io i nomi degli effetti non li ho mai memorizzati quindi di default utilizzo sempre con tutto illuminato perché è più comodo di sera e quindi mi trovo meglio bene che dire per il prezzo che l'ho pagato è ovviamente un best buy ma anche per il prezzo quello a prezzo pieno è una tassiera interessante se la trovate in offerta se la trovate in sconto al di sotto dei 20 euro prenderà assolutamente se la trovate a prezzi maggiori maggiorati tipo i 35 euro che viene normalmente venduta ve la sconsiglio perché ve la sconsiglio semplicemente perché è un brand che poco conosciuto potrebbe potrebbe morirvi di morte improvvisa dopo qualche mese attualmente appunto la sto utilizzando da da quando mia madre stava ricoverata in ospedale quindi sono stati tre settimane quindi sono tre settimane che la sto utilizzando in queste tre settimane non mi ha dato problemi di sorta la digitazione è veloce avete visto è molto precisa il suono è buono però non vi posso dare un feedback della durata di questa tastiera quindi perché ho detto vi spiego perché metto le mani avanti e vi dico questa cosa perché ho detto su online che alcuni si sono lamentati di morte improvvisa dopo un mese o un mese e mezzo di utilizzo sono poche segnalazioni sono molto poche ed è una una cosa che ci può stare ci sta anche con marchi più blasonati però appunto se lo prendete dalla cina e lo prendete con un prezzo molto alto è peccato è peccato spendere soldi e non avere la possibilità di effettuare un reso facile e quant'altro anche se molti di questi siti cinesi come Temu come Aliexpress alla fine in caso di problemi voi fate la segnalazione molto spesso vi mandiamo quella nuova senza che ci dovete rimandare indietro la tastiera però sapete ci sono tempi molto lunghi per le spedizioni e quant'altro quindi si acquistatela acquistatela a un basso prezzo dai siti cinesi magari se la trovate su Amazon nella stessa fascia di prezzo prendetela anche a 35 perché in caso di problemi con Amazon state al 99,9% sicuri che il prodotto vi viene vi viene rimborsato o sostituito ma i siti cinesi sapete un po' e poi potrebbe esserci qualche in top con questo si conclude qui questa non recensione è della MaggiG Star 61 spero di non avervi annoiato troppo spero che vi sia piaciuta e acquistatela bella vero vi piace sto suono? a me piace un casino sto suono ciao ciao